Non ci sono solo i lavori su Strada Carloni come opera compensativa alla terza corsia prevista dalla società autostrade che sta chiudendo al transito fino al prossimo febbraio l'arteria stradale fra Muraglia e Celletta. Fra le opere compensative ci saranno anche i cosiddetti boschi urbani. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci attraverso un comunicato stampa, poi declinato in post sui social, che ha voluto correggere il tiro su un articolo apparso oggi sul resto del Carlino. Ricci ha garantito che i boschi urbani si faranno come previsto parallelamente ai lavori di società autostrade. Il progetto esecutivo dei primi sette, ovvero quelli legati all'interquartiere di Muraglia, verranno approvati entro la fine dell'anno. Poi saranno realizzati tutti gli altri 14 che sono stati previsti. Serbero infatti 20 gli ettari coinvolti dalla realizzazione di polmoni verdi che spazierebbero in ogni zona della città, da Borgo Santa Maria a Case Bruciate, da Santa Veneranda a Muraglia. Si tratta di un intervento fondamentale per dare equilibrio ecologico e bilanciamento della biodiversità garantendo aria più salubre in città per ridurre anidride carbonica e polveri sottili che verrebbero emesse dallo smog dell'innalzamento dell'impatto stradale. Dopo diverse proroghe Ricci interviene dunque a garantire progetti entro la fine del 2022.